Buonasera, come va? Benissimo, adesso ancora meglio, sei nella zona bianca e siamo davvero tutti molto contenti. Allora, voglio partire dall'attualità, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Elisabetta, 70 anni di regno, tre donne premier e tutte e tre conservatrici. Dopo il 25 settembre avremo anche in Italia una donna premier conservatrice. Questo non va chiesto a me, io sto facendo del mio meglio intanto per garantire un risultato di tutto rispetto a Fratelli d'Italia e per far vincere il centrodestra. Poi sulla base di quello che gli italiani decideranno il 25 settembre, insomma, ho detto e ripeto che non sono una che si è mai tirata indietro, per carità. Sono una persona che ha il senso della misura e della responsabilità e quindi Soccone non è esattamente facile eventualmente andare a governare l'Italia in un momento come questo. Però io non sono mai scappato in vita mia, per cui se gli italiani daranno questa indicazione e il Presidente della Repubblica dovesse accoglierla, farò il mio lavoro come sempre. Pensa che contro questa eventualità ci sia un atteggiamento da parte di qualche forza politica sessista? Allora, io ho negato, diciamo, per molta parte della mia vita che ci fosse questo problema. Ultimamente un po' ci ho fatto i conti, vedo un certo nervosismo che non si spiega, no? Però penso anche che sia normale un cambiamento e i cambiamenti fanno sempre un po' paura, no? Per cui c'è un po' un mondo che cerca di difendersi. E' così, è rompere questo tetto di cristallo con il quale da sempre le donne hanno a che fare, no? C'è sempre comunque il fatto che tu devi fare di più per arrivare allo stesso punto. Poi la mitica Charlotte Whitton, che era sindaco di Ottawa negli anni 50, diceva fortunatamente non è difficile, però lo devi fare due volte meglio di un uomo e sei comunque considerata brava la metà. forse dimostrare ai massimi livelli che puoi fare bene, se fai bene, eh? Se fai bene, se riesci a fare bene, però sicuramente può aprire tante strade per tante altre, no? Enrico Letta sembra più interessato in qualche modo a sminuire la figura di Giorgia Meloni, a mettere in guardia su un pericolo Giorgia Meloni che a parlare di programmi. Alla fine vi si può ritorcere contro questa strategia? Ma intanto la strategia si ritorce contro gli italiani perché noi non riusciamo a fare una campagna elettorale normale. Qui alla gente tra un po' rischia che non gli arriva la luce dentro casa e loro sanno parlare di cose che sono totalmente surreali. Io non sto alle provocazioni, non rispondo alle provocazioni, provo con Fratelli d'Italia a spiegare agli italiani come possiamo occuparci della crisi energetica, del rischio di una crisi alimentare, della situazione internazionale, delle tasse per aiutare il lavoro, per aiutare le imprese, che norme facciamo. Però oggettivamente tutti gli altri parlano di cose surreali. E guardi, con una irresponsabilità che io comincio a considerare vergognosa. Perché adesso io sono un sabbo buono e cara e ho fatto finta di non vedere gli insulti, le minacce, le lettere con le minacce di morte alle Brigate Rosse. E il risultato di una campagna che si fa ogni giorno per dire che noi siamo dei mostri, come se non ci si rendesse conto che poi quando tu dipingi il mostro c'è pure il rischio che qualcuno ti creda. Ho visto oggi un convegno del Partito Democratico alla presenza del segretario Enrico Letta, nel quale il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, testualmente dice, parlando di noi, sputeranno sangue. E sputeranno sangue per cambiare quello che noi non siamo riusciti a realizzare in questi anni. Sputeranno sangue, comunque non hanno queste elezioni, ma se vanno bene, ovviamente, è molto più facile. Ora lei mi deve, cortesemente, dire, se io avessi mai detto una cosa anche solo lontanamente paragonabile a questa, che cosa sarebbe accaduto? Allora sono stufa di una nazione la quale la sinistra pensa di avere delle libertà che non sono concesse al resto del genere umano. E forse dovrebbero tornare un attimo con i piedi per terra e capire che si stanno assumendo una responsabilità molto grave. Perché adesso mi sono stufata. Con Enrico Letta dietro che applaude a queste parole di Michele Emiliano. Provo un attimo a stemperare con un'altra provocazione. Scusi, mi sono arrabbiata. No, no. Un'altra provocazione magari la fa arrabbiare ancora di più. Matteo Renzi ha detto, Giorgia stia serena perché io ogni due anni faccio cadere un governo. Sempre se ci arriva in Parlamento. Ma in ogni caso se anche ci dovesse arrivare gli consiglierei di occuparsi di questo. Ma in ogni caso lei capisce, è una battuta, per carità magari sarà una battuta. Ma a loro proprio non interessa se il governo lavorerà bene, se il governo non lavorerà bene. Come sarà messa la situazione italiana, come non sarà messa la situazione italiana. Per loro è tutto un gioco di ruolo. E loro è risico. E qui levo un carro armato, qui metto un carro armato. Che bravo generale che sono, quanto sono bello, quanto sono intelligente. Cioè come se la vita delle persone, come se il destino della nazione, non c'è trase niente con questa materia. Ma lei si rende conto di che cosa tradisce una battuta del genere al di là del fatto che è battuta. Quello che noi della sinistra sappiamo, che per loro il palazzo è un gioco di ruolo. È un gioco loro, è una cosa che gli appartiene. E gli italiani, e chi se ne frega. Per questo io non mi sento come loro, insomma mi sento un po' diversa. A proposito degli italiani, il primo problema in questo momento degli italiani è quello delle bollette, del caro energia. E allora lei ha detto che fermerà la campagna elettorale per andare in Parlamento a discutere il decreto aiuti. Che si aspetta? No, intanto mi aspetto che si approvi. Perché il problema che abbiamo noi, che è la ragione per la quale io ho detto che sarò in aula mercoledì, è che ovviamente trovandoci tutti in campagna elettorale... La lintesa si trova. Già, no, adesso ci arrivo. Però già al Senato, diciamo, si rischiava che non ci fosse proprio la presenza minima garantita per approvare il provvedimento. Siccome nel DL aiuti comunque sono già contenute delle misure che sono comunque importanti, al di là del fatto che la posizione Fratelli d'Italia è una posizione d'astenzione, però vogliamo garantire la presenza perché si possa discutere ed eventualmente approvare il provvedimento. Dopodiché, la proposta che io continuo a fare, che si può fare a livello nazionale, al netto del fatto che la soluzione migliore rimane il tetto al prezzo del gas, tetto al prezzo del gas contro il quale continuano a esserci delle opposizioni, particolarmente della Germania e dell'Olanda, alleate dei nostri amici del centro-sinistra, tanto per ricordare che ci spiegano, ci stanno sempre lì a fare la morale, poi muti quando la Germania impedisce di mettere il tetto al prezzo del gas. E c'è il tema del disaccoppiamento tra gas e elettricità. Quella è una cosa che si può fare anche a livello nazionale. Sarebbe meglio che lo facesse l'Europa, ma siccome l'Europa mi pare che stia perdendo tempo, noi abbiamo elaborato questa misura da quello che solo aveva proposto anche il Ministro Cingolani, noi citammo il tema addirittura a gennaio di quest'anno, quindi ci stiamo occupando di questa cosa. Attualmente, lo spiego proprio in 30 secondi, noi abbiamo tutte le fonti di energia parametrate al costo del gas. Se io produco da rinnovabili, comunque pago la rinnovabile indipendentemente da quanto mi costa produrle, quanto pago il gas? Oggi una volta il gas era quello che costava di meno, quindi conveniva. Oggi no, perché tu hai il gas a 700 e magari le rinnovabili le paghi 100. Se ti arriva dentro casa l'elettricità e il tuo operatore ha 50% da gas e 50% da rinnovabili, un 50% lo paghi 700, ma l'altro lo paghi 100. Quindi la somma non ti fa 700, ti fa 400 se disaccoppi. È una convenzione, si può fare, e io dall'opposizione lo sto proponendo da giorni e spero che si possa tentare di parlarne e di provare a approvare un provvedimento così sensato. Anche perché da quello che mi è parso di capire non è molto ottimista su un accordo a livello europeo sul price cap. Guardi, io spero che alla fine ci si arrivi e confido che, come sempre, in Europa ci hanno dei tempi un po' lunghi, ma alla fine anche loro si rendono conto che non puoi ottenere tutto. Noi siamo in mezzo a una guerra, siamo messi in una situazione molto difficile. Il prezzo aumenta del gas, questo pure lo dobbiamo dire. Non perché la Russia aumenta i prezzi. La Russia ci gioca, apre, chiude, rubinetti, eccetera, ma è la speculazione che fa alzare il prezzo. Quindi noi stiamo regalando i soldi a dei grandi player che si mettono d'accordo e decidono che il loro rischio è maggiore e quindi li fanno se tu metti un tetto questo problema lo hai risolto. Però, lì, Brindisi, io tento di spiegare da anni che, a differenza del racconto che ci hanno fatto questi signori del PD a casa nostra, cioè che l'Europa è una grande solidarietà in cui tutti si occupano solo degli altri, io ho sempre tentato di spiegare che le altre nazioni difendono il loro interesse nazionale. Perché la Germania si oppone al price cap? La Germania si oppone perché loro sono i più esposti, ma sono anche i più ricchi. Quindi possono comprare gas a un prezzo più alto e approvvigionarsi per primi, perché loro si possono permettere di pagarlo di più. Il tetto non gli conviene perché altrimenti si devono andare a approvvigionare come tutti gli altri. L'Olanda perché non vuole il tetto? Perché la borsa ce l'ha dentro casa sua e quindi la speculazione, bene o male, ricade in Olanda. Allora, ci fate capire, in questa Europa nella quale tutti gli altri difendono il loro interesse nazionale, cosa che io comprendo, poi bisogna cercare delle soluzioni, bisogna trattare, però perché noi siamo gli unici che non dovrebbero farlo? Che quando diciamo difendiamo il nostro interesse nazionale, questi da sinistra ti guardano, sovranisti, nazionalisti, e cominciano a dire delle cose senza senso, perché comunico che altrimenti sono molto più nazionalisti e sovranisti i socialisti che governano la Germania. Ma io non la vedo così, penso sia normale che i governi difendano le loro nazioni. Altre due domande prima di lasciarci. Per le imprese italiane, cosa si sente di dire agli imprenditori che sono in sofferenza per queste bollette triplicate, quadruplicate? Sulle bollette ho già detto che si può intervenire e secondo me si può anche intervenire sul pregresso, si può aiutare a calmierare ulteriormente le attuali bollette. Le risorse, tra l'altro, io credo che ci siano anche senza uno scostamento di bilancio, perché noi abbiamo i soldi dell'extragettito dello Stato, perché lo Stato quando aumenta la bolletta ci guadagna più, prende più IVA, quindi intanto lo Stato non ci deve guadagnare. E quindi quei soldi, la nostra proposta è tagliare tutti gli oneri sulla parte di aumento, IVA, CIS, tutto. Dopodiché in teoria ci sono i soldi degli extraprofitti che si riescono a recuperare con una difficoltà, ma qualcosa sta venendo fuori. E secondo me si potrebbe chiedere alla Commissione europea di utilizzare i fondi della programmazione europea nuovi, fu già fatto con il Covid, di fronte all'emergenza, che una parte di quelle risorse fu possibile utilizzarle per l'emergenza. Io credo che si possa tentare anche oggi a recuperare altre risorse. E quindi sulle bollette, crediti in posta, io sono anche per le utenze di sussistenza. Guardi, leggevo l'altro giorno un dato secondo il quale un italiano su tre rischia di non essere in grado di pagare le bollette. Ma ha terrorizzato. Perché che facciamo? Stacchiamo la luce e il gas a un terzo degli italiani? Allora, io penso che in un momento come questo un minimo proprio di sussistenza per chi è moroso, per chi non ce la sta facendo a pagare le bollette, sia un tema che va ragionato. Dopodiché per le imprese in generale io penso che vada proprio cambiato il paradigma. Guardi, noi usciamo da una legislatura nella quale ci hanno detto che avevano abolito la povertà con un decreto, ci hanno detto che facevano il lavoro con i decreti. Bisogna dire cose come stanno. La ricchezza non la fa lo Stato, la ricchezza la fanno le imprese e i loro lavoratori. Lo Stato al massimo può redistribuire la parte che gli compete. Quello che lo Stato deve fare è non rompere le scatole. Per cui la prima regola è non disturbare chi vuole fare il tema dell'onere della prova in campo tributario, i tetti al contante, gli obblighi di posto, tutta una serie di cose che non servono a niente. Intanto, secondo me, bisogna metterle da parte. E poi bisogna tagliare le tasse, tasse sul lavoro. La proposta di Fratelli d'Italia, l'obiettivo di legislatura è più assumi meno paghi. Cioè più è alta l'incidenza di manodopera che hai in rapporto al fatturato, meno tasse devi allo Stato. Abbiamo aperto con Elisabetta, c'è un'altra notizia che arriva dall'estero ed è molto importante. In queste ultime ore si registra una forte controoffensiva ucraina che sta ricacciando i russi. E allora è stato giusto aiutare gli ucraini? È stato giusto fornire armi? Guardi, io sono convintissima che fosse giusto aiutare gli ucraini, per una questione di merito e per una di metodo. L'ho detto diverse volte. La prima è che l'unica possibilità che tu hai di mettere dei belligeranti al tavolo delle trattative è che ci sia un equilibrio tra le forze in campo. Se Putin avesse vinto, diciamo conquistato l'Ucraina con una blitzkrieg, non ci sarebbe stata la diplomazia, ci sarebbe stata un'invasione, che è un'altra cosa, è comunque una conquista. Quindi per me era molto importante anche perché sapevo che la motivazione che hanno oggi gli ucraini a difendere la loro terra, a difendere la loro patria è più forte di quella che c'è dall'altra parte. E poi perché, come ho detto altre volte, io sono convinta che il conflitto in Ucraina altro non sia che la punta dell'iceberg è di una cosa molto più grande. Cioè l'obiettivo è una revisione degli assetti mondiali. Se l'Occidente viene ridimensionato, chi paga di più siamo noi europei. Noi rischiamo, allargando il perimetro, di finire sotto l'influenza cinese. E io francamente, lei capirà, ho una certa resistenza rispetto a questa ipotesi. Dopodiché la questione di metodo che pure ho spiegato, l'Italia se anche decidesse di sfilarsi dalla comunità internazionale, cosa che io non condividerei, non cambierebbe l'esito della guerra. Se anche l'Italia si sfilasse, tutti gli altri continuerebbero a mandare le armi, a fare le sanzioni, a fare quello che fanno. Quello che cambierebbe non è il destino dell'Ucraina, è il nostro. Saremmo noi a non essere più considerati seri, credibili, e bene o male, quando dovesse servire aiuto a noi, gli altri direbbero, guarda, scusami, non mi interessa. Chiaramente questo che cosa comporta? Se tu sei serio, se sei leale, se sei credibile, se sei una nazione che cammina a testa alta, non l'Italia a spaghetti e mandolino, puoi anche meglio chiedere quello che serve a te. Perché sul tema delle compensazioni, questo Fratelli d'Italia lo pone dall'inizio. Cioè la prima cosa che noi abbiamo detto, l'abbiamo anche fatta approvare dal Parlamento, non se ne è accorto nessuno, si figuri, è un fondo di compensazione finanziato da tutto l'Occidente per compensare le nazioni più coperte dalle sanzioni. Perché è vero che qualcuno paga di più, qualcuno paga di meno e qualcuno ci può perfino guadagnare in questa guerra tra i nostri alleati. E allora oneri e onori, e allora si dimostra che c'è lealtà ma anche solidarietà. Giorgia Meloni, grazie. Grazie per essere stata nella zona bianca questa sera. Noi ci fermiamo.